Amici di Teledeon, bentrovati a questo nuovo appuntamento con elettori ed eletti. Ormai mancano davvero pochi giorni alle elezioni previste per il 25 settembre, elezioni politiche che dovranno portare alla composizione del nuovo Parlamento e dare il via al governo che avrà delle scadenze importantissime per far uscire l'Italia dalle secche della recessione che rinviene da due anni di pandemia e dalla guerra tra Russia e Ucraina. In nostra compagnia, ne siamo particolarmente lieti, abbiamo Giovanni Vurchio, candidato del Partito Democratico alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 1, quello che comprende le province di Foggia e della Bat, e ringraziamo anche Deborah Ciliento, candidata sempre del PD alla Camera nello stesso collegio, quello che comprende appunto le città del Foggiano e quelle della Bat. Come dicevamo, sono gli ultimi giorni di questa campagna elettorale, per cui forse è il caso di sottolineare quanto sia importante concentrare il voto su chi ha la possibilità di essere eletto. si dice sempre il voto utile. Intanto grazie ancora, un saluto ai concittadini e ai telespettatori per l'opportunità che ci date, perché stiamo attraversando un momento emozionante, almeno per quanto mi riguarda, ma della squadra dei candidati del Partito Democratico sul territorio, perché cominciamo a fare il porta-porta, e quindi quando si fa il porta-porta vuol dire che si cerca di parlare con delle persone e stimolarle soprattutto ad andare a votare, che questa è la cosa importante, perché è vero che non è obbligatorio in Italia, però è un dovere civico. ed è importante soprattutto quando partecipare vuol dire essere partecipe di una decisione e quindi assumersi delle responsabilità, perché è facile non andare a votare e poi dopo demandare ad altri la responsabilità, invece bisogna andare a votare, consapevoli, e un voto utile e ragionato, utile perché ne abbiamo bisogno per ricostituire il nuovo Parlamento, quindi la Camera, il Senato, ma al tempo stesso ragionato perché come nel nostro caso, come quasi oserei dire non mai, il Partito Democratico ha fatto in modo che sul territorio fossero candidate persone che hanno una storia, che hanno un contatto continuo con i cittadini, che hanno maturato appunto dei consensi e che in un determinato periodo, abbastanza medio-lungo, hanno diciamo in qualche modo dimostrato il senso di appartenenza, di attaccamento al territorio. Era il momento dei candidati migliori, insomma. Secondo me era il momento, altrimenti sembriamo presuntuosi, ecco la scelta è ragionata, non si poteva come diceva ieri appunto il Presidente della Regione Puglia, non si poteva pensare di candidare chi divide, bisogna cercare di candidare persone che uniscono, persone che ripeto hanno una storia e che hanno dimostrato di avere l'appartenenza di un territorio, perché capita come in questo momento che altri partiti collocano rappresentanze sul nostro territorio per togliere un seggio a noi e aggiungerne una a loro, nel caso di Salvini che si è candidato in Puglia, mentre invece è la Meloni che si è candidato in Puglia. E quindi tolgono un seggio a noi e loro ne aggiungono una a Roma e una in Lombardia. E io credo non sia una cosa corretta, anche perché il 26 il cittadino, cioè il giorno dopo le elezioni, il cittadino non andrà a chiamare né a Salvini né alla Meloni. Chiamerà, continuerà a chiamare a Giovanni Vurchio, continuerà a chiamare al sindaco di Andria, e continuerà ad avere come riferimenti i rappresentanti di quel territorio, così come accade ad Andria, poi accade a Trani, accade a Foggia e accade naturalmente a Barletta. E questo è il problema, ecco perché il voto è utile. Questa volta io continuo a ribadirlo, l'ho detto anche durante la presentazione della mia campagna elettorale, che si è aperta domenica, dinanzi a un folto numero di partecipanti e di simpatizzanti, cerchiamo di fare in modo che il nostro territorio esprima un suo rappresentante, quello che ha un indirizzo civico, un appartamento, un numero di telefono, dove uno può andare e chiedere, abbiamo una necessità per il nostro territorio, come la risolviamo? Ecco, questo abbiamo bisogno, perché se puntiamo al simbolo, il simbolo non porta pane al territorio, quindi dobbiamo puntare alle persone, qualora riuscissimo a farlo saremmo stati bravi, dal 26 non potremmo più lamentarci e quindi quelle persone che non vanno a votare e che non fanno un voto ragionato, secondo me non se la potranno prendere con nessuno, se non con se stessi, quindi ecco l'importanza di andare a votare. Poi dopo è evidente che c'è un altro motivo, parlo del caso di Andria, il motivo che noi daremo forza all'amministrazione comunale, che attualmente è di centro-sinistra, abbiamo bisogno di creare un filotto e quindi si potrebbe verificare che uno della lista del plurinominale, augurandoci naturalmente che la consigliere regionale possa andare in Parlamento e il sottoscritto possa diventare consigliere regionale, essendo il primo dei non eletti. Il secondo, quello relativo al collegio uninominale e quindi del notario Zinni, è quindi cercare di creare il filotto che desse in qualche modo aiuto, supporto, conforto al sindaco per risollevare la nostra città dal pantano, dove purtroppo siamo stati relegati, è chiaro che c'è questa necessità, quindi uno per rafforzare e tenere forza sull'amministrazione, due per eleggere un candidato che possa dal giorno 26 continuare a rispondere alle esigenze dei cittadini, perché i cittadini devono sapere che votarlo vuol dire dargli forza. Chiarissimo. Sullo stesso argomento, diceva Giovanni Burchio, è il momento delle scelte, è il momento davvero di dare forza a un progetto. Certo, questo è un momento fondamentale anche perché siamo reduci da un periodo storico veramente complesso e soprattutto non lo dobbiamo dimenticare, siamo all'interno di una guerra e questo deve farci veramente riflettere. Ciò che in questi giorni incontrando tante persone è vero, c'è una sfiducia di fondo. Molta gente, e ciò che mi fa riflettere tantissimo, che a non voler votare sono persone anche adulte e io credo che in questo momento debba prevalere un senso di responsabilità, cioè il mondo adulto deve dare un segnale forte ai più giovani, dicendo che a votare si deve andare, anche perché noi non possiamo dimenticare la storia, non possiamo dimenticare che ci sono persone che sono morte per questo diritto. E credo che in questo dobbiamo avere, tutti abbiamo il dovere, quantomeno di andare a votare. Dopodiché la scelta deve essere una scelta ponderata, una scelta che deve vedere al centro della politica il noi. Noi non abbiamo in questa campagna elettorale delle figure che prevalgono uno sull'altro, ma anche come territorio e come collegio abbiamo deciso di dare voce ad una squadra di persone. Una squadra di persone che ha delle idee comuni, che si fondano sui principi cardini dell'essere del centro-sinistra, ossia legate al senso di accoglienza, al senso di mettere le persone e le storie di chi ha più difficoltà al centro. E credo che questo sia l'aspetto che deve veramente caratterizzare questo momento e l'invito è agli adulti ad andare a votare per il bene dei propri figli, per il bene dei giovani della nostra comunità e ai giovani stessi ad essere veramente critici e a valutare i percorsi storici che sono già avvenuti. Perché questo in questo momento è un film già visto e non vorrei assolutamente che si possano ripetere gli stessi errori. Quindi cerchiamo veramente di dare un voto consapevole, ma soprattutto responsabile. Ecco, per fare questo c'è bisogno anche di stimolare i cittadini su dei temi forti. Quali sono i vostri temi forti di questa campagna elettorale? Giovanni Burchi. Io intanto mi sono già esposto da questo punto di vista. Noi abbiamo una situazione innanzitutto di performamenti professionale sulla riforma fiscale, ebbi già modo di accennarlo. Io credo che la riforma fiscale meriti attenzione perché tutto si basa poi sulla riforma fiscale. Cioè se noi riusciamo in qualche modo a dare più respiro alle tasche dei cittadini, ai lavoratori dipendenti, delle imprese, anche ad esempio attraverso una serie di finanziamenti come quelli che sono stati sul bonus mezzogiorno, sul credito d'imposta della 4.0, cioè sono situazioni che vanno a stimolare appunto l'imprenditore. Ridurre il peso e quindi l'imposta, l'IRPEF, sulla busta paga vuol dire dare più soldi in tasca alla famiglia per poter spendere. Diciamo che sono, ecco, come vuol dire, con la riforma fiscale, insomma, la delega alla riforma fiscale, qualche passettino in avanti è stato fatto, poi dopo si è bloccato di nuovo tutto. E adesso non bisogna vanificare. E' chiaro che non bisogna vanificare, perché comunque anche l'abbattimento degli scaglioni IRPEF veramente porta, ecco, qualche percentuale in più del salario in tasca del lavoratore dipendente. Ma non è sufficiente. Noi abbiamo, ad esempio, come in questo periodo, abbiamo bisogno anche di allentare, di rendere meno rigidi quelli che sono i cosiddetti indicatori sintetici di affidabilità. Allora, il cittadino, l'imprenditore sa, almeno una parte, dovrebbe sapere che ci sono dei strumenti di controllo automatizzato da parte del fisco. Ecco, se noi andiamo a vederlo, e io vengo appena da una campagna di redditi abbastanza pesante, anche quest'anno, ad esempio, è vero che dovrebbero essere la sintesi della situazione economica. Cioè, questi sistemi di controllo automatizzato, che in sostanza ti dicono se è vero che quello che hai dichiarato è quello che hai guadagnato, e quindi è congruo, è coerente, eccetera. E' praticamente l'eredità degli vecchi studi di settore. Bravissimo. In realtà sono ancora rigidi, cioè non hanno tenuto conto di una serie di variabili, e quindi, ecco, mettono l'imprenditore nelle condizioni di doversi obbligatoriamente adeguare. Magari anche l'imprenditore che realmente ha sofferto, e che realmente... Non ha guadagnato quelle soldi. Io sono sempre dell'idea che un fisco più vicino ai cittadini, è vero, è importante dirlo, ma poi bisogna anche dimostrarlo. Quindi l'attenzione verso le imprese è fondamentale, perché loro possano continuare a mantenere gli stessi livelli occupazionali, che sono fondamentali. Ad esempio, perché molto spesso non si avvii una forma di premiazione per chi paga o per chi dichiara redditi altissimi. È importante dare questo esempio e dire, guardate, il contribuente, ecco, che contribuisce maggiormente alle, diciamo, risorse per poter, dici, in qualche modo far funzionare la comunità, maggiore, quindi, a secondo quanto che prevede, naturalmente, il testo unico sulle imposte dirette, va premiato. Cioè, noi invece abbiamo molto spesso, come voglio dire, si cerca di premiare il furbetto. Ecco, sono una serie di situazioni dove il fisco meriterebbe una rivisitazione integrale e non più a spot. Questo è uno. L'altro aspetto ad Andria è il turismo. Noi abbiamo un Castel del Monte, che potremmo farlo diventare punta d'eccellenza. Ormai, oggi, tutte le comunità vivono prevalentemente di turismo. Noi invece abbiamo il Castel del Monte e non riusciamo a valorizzarlo perché arriva il turista e va via. Arrivano milioni di turisti al Castel del Monte, ma neanche uno arriva nella nostra città. Quindi avremmo bisogno, anche attraverso delle norme di carattere regionale, disciplinare una situazione. Molti dicono che Castel del Monte è uno dei dieci monumenti più visti d'Italia, ma soltanto il 10% di quelli che visitano il castello si fermano in città. Secondo me anche meno. Anche meno del 10%. Molto meno. Quindi questo significa che davvero ci sarebbe tanto da lavorare. Noi anche al Comune stiamo lavorando affinché si approvino le nuove norme tecniche di esecuzione che agevoleranno soprattutto le aperture di quelle strutture ricettive. Quindi abbiamo bisogno anche di questo. Questi sono i due punti fondamentali. Invece su questo stesso argomento Deborah Ciliente. Sicuramente dare maggior valore a quei servizi che sono pubblici e che sono essenziali. E parliamo del mondo dell'educazione, della scuola e della sanità. L'educazione perché investire in quello che è il terzo settore, il nostro territorio ha realtà veramente importanti che aiutano nel sociale e sono fondamentali. E credo che questo sia un investire, veramente investire sulla prevenzione, su quella prevenzione primaria che oggi non viene proprio toccata dalla politica. Che è una battaglia che sta portando anche in consiglio regionale. Sì, è una battaglia perché ritengo che creare una comunità che sia comunità educante significa veramente investire. Investire sui più giovani, investire sui livelli essenziali di assistenza che portano a vivere una comunità che è fatta di condivisione e di accoglienza. E credo che su questo c'è molto da lavorare. L'altro aspetto è quello della scuola. Scuole che siano sempre più sicure innanzitutto e che formino i veri cittadini del domani. Ma che siano scuole che riconoscano agli insegnanti stessi il ruolo di autorevolezza che devono avere. Perché troppo spesso nell'ambito educativo si è spossessati della propria figura sotto diversi aspetti che possono essere da quello prettamente di ruolo a quello economico. Quindi credo che su questo vada fatto ordine e vada portato avanti quello che si chiama oggi il patto educativo di corresponsabilità con le famiglie, con la scuola, con la società stessa. Anche perché le stesse famiglie spesso contribuiscono a creare un disservizio all'interno della scuola non riconoscendo il ruolo reale dei docenti. E questo modo di fare non aiuta e fa male solo ai più piccoli. Perché i ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento. Ma quel punto di riferimento non è sempre quello che gli dice hai ragione, va tutto bene. Ma è quello che è capace di dirgli anche quando sta sbagliando che non è così e devi cambiare il tuo atteggiamento. Questo significa fare prevenzione. Ma è necessario ridare autorevolezza a queste figure che sono fondamentali. Certamente. Ecco, avete un minuto a testa per dire per quale motivo scegliere il Partito Democratico. Di fatto l'avete già anticipato ma veramente in un minuto rivolgendosi direttamente ai telespettatori. Perché votare il Partito Democratico? Votare il Partito Democratico, l'ho ripetuta molto spesso, diciamo questa frase. Ho ripetuto spesso questa frase. Il Partito Democratico è un partito strutturato. È un partito che oggi dà la possibilità a tutti coloro che ci navigano all'interno del Partito Democratico di poterne discutere dei tanti problemi naturalmente sociali. Non ha una struttura verticistica per cui è già importante questo. Certo, con i pro e i contro. Naturalmente votare per il Partito Democratico nel determinato periodo che è quello dell'elezione del 2022 perché abbiamo detto bisogna eleggere rappresentanti del territorio e non dare la possibilità ad altri che dal 26 non vedremo più, di poter venire al nostro territorio, toglierci i seggi, toglierci i voti e poi farla da padrone a livello nazionale. No, noi abbiamo bisogno di persone in carne e ossa che si interfaccino ogni giorno con la gente. E noi siamo questo, lo abbiamo dimostrato tutti. Io per Andrea, Deborah per Trani, Sciadi per Barletta, Piemontese per Foggia, Zinni per Andrea, Boccia per Biceglie e naturalmente a livello nazionale. Noi siamo persone che ogni giorno siamo a contatto con i cittadini. Io sono pronto a che qualcuno mi dimostrasse il contrario. Votare PD perché è la casa del noi, è una comunità che parte da livello locale e si trasferisce a livello nazionale. È fatta da storie di persone impegnate sui territori e soprattutto nell'idea di politica che il Partito Democratico ha pone al centro le persone con le loro storie e con i loro bisogni. E allora io ringrazio davvero di cuore Giovanni Burchio che non lo abbiamo detto è anche presidente del Consiglio Comunale di Andria oltre ad essere candidato del PD alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 1 che comprende le province di Foggia e BAT. E ringraziamo Deborah Ciliento, anche qui non l'abbiamo detto, ma è consigliere regionale in carica, oltre che candidata del Partito Democratico alla Camera dei Deputati nello stesso collegio plurinominale Puglia 1 che ricomprende tutte le città del Foggiano e la BAT. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento per tutti nelle prossime ore, sempre con elettori dell'Etti. Grazie a tutti.